Dopo nove anni, Piazza Castello viene restituita alla città. Il progetto di completamento è costato 5 milioni di euro e prevede la manutenzione e la riqualificazione dei ruderi del castello e delle aree verdi ad esso a Nisse. I lavori affidati alla ditta Cogepa sono stati bloccati diverse volte. Ora invece si va verso la consegna dell'opera. Questa mattina il sindaco Gianluca Festa è andato sul posto per verificare insieme ai tecnici del comune l'andamento dei lavori. È da luglio 2012 che purtroppo la piazza versa in condizioni di non percorribilità. Finalmente la nostra amministrazione di fatto sta per riconsegnarla alla città. Stamattina stiamo anche effettuando le prove per la realizzazione di una rotatoria in modo che possa essere anche agevole l'immissione delle auto e dei pullman su questa piazza. Pian piano stiamo realizzando tante opere, sbloccandole dopo decenni. Credo che questa sia un'altra bella notizia per la mia comunità. E con il completamento della piazza nasce anche la rotatoria che si trova proprio all'uscita della bretella che collegherà via circunvallazione a Corso Umberto, uno snodo importante per la circolazione stradale. Grazie.